e quindi mi ha chiesto se io sono interessato a gestire tutti e tre i suoi appartamenti, sia online che offline. Solo che lui mi ha detto che... Io gli ho spiegato più o meno, che gli ho detto che sì, ho studiato, che comunque conosco dei metodi per aumentare il suo tasso di occupazione e la sua reddittività, solo che lui mi ha detto che il suo tasso di occupazione è già praticamente circa il 90-95%. E si ha detto che sì, secondo lui è difficile fare meglio e che comunque praticamente avevamo fatto una chiamata venerdì, gli ho detto che in settimana, questa settimana andavo da lui, che abita non troppo vicino, non troppo lontano da me, e niente, ci proviamo e lui mi ha detto sì che dovrò convincerlo perché così mi dia il suo appartamento in gestione. Ok, bene. Allora, hai fatto un errore in questo caso. Ti spiego qual è. Vedi, io ho fatto una lezione chiara nel corso dove spiego, ragazzi, voi a livello di vendita, stessa cosa vale per il PM e stessa cosa vale per la sublocazione. Io vi do tutte le leve da utilizzare. Io vi dico chiaramente che a un proprietario fa piacere che voi assicurate l'appartamento nel momento in cui si tratta di sublocazione, oppure gli aumentati tassi di occupazione, eccetera, eccetera. Ma voi dovete innanzitutto fare delle domande al proprietario, cioè capire al meglio la loro situazione, perché soprattutto a livello di PM tu sei a livello percettivo un consulente, una persona che può aiutarlo a guadagnare di più, in questo caso. Cioè noi siamo in questo business, e anche tu in questo caso sei nel business del aiuto una persona a avere meno problemi, avere magari, avere meno pensieri, risparmiare tempo e guadagnare di più. Il loro obiettivo è far sì che il loro appartamento arrenda il più possibile senza avere casini da loro parte. Quindi proporli a questi proprietari nel momento in cui hanno un tasso di occupazione del 90-95%, dirgli guarda io ti aumento il tasso di occupazione, non è efficace. Perché se una persona a me domani viene e mi dice guarda Marco, mi si propone come PM, voglio aumentare i tuoi tassi di occupazione, io gli dico caro sono pieno al 90%, cosa mi devi aumentare? Se però invece una persona arriva da me e mi dice guarda Marco, io ho visto che sei pieno al 90%, quindi già capisco che questa persona ha fatto i compiti a casa, quindi si dimostra una persona sicuramente molto più preparata e professionale, e mi dice guarda però notando alcune, facendo un'analisi della zona, io so che tu potresti, stai lasciando sul tavolo il 20% per esempio di fatturato. Quella tra virgolette affermazione sua è tra virgolette il ganso che mi porta a dire se mi avessi detto ti miglioro il tasso di occupazione non me ne sarebbe fregato nulla, se mi dici stai lasciando il 20% di soldi di fatturato magari di uno dei miei appartamenti, di tutti i miei appartamenti sul piatto, la cosa mi attira molto di più. Quindi tu avresti dovuto puntare molto su questo, se lui è pieno al 90-95% tutto l'anno, vuol dire che sta facendo i prezzi troppo bassi. Quindi tu potresti arrivare lì e dirgli molto chiaramente a livello macro, spiegargli che a livello di strategie di prezzo, o meglio ci sono molte strategie di prezzo che permettono a un proprietario di guadagnare molto di più di quello che sta guadagnando. Cioè se lui è sempre pieno, vuol dire che sta chiedendo troppo poco. Per esempio io gli farei delle domande, gli chiederai ma scusa, tu questo se riesci guardalo prima, così eviti di fare le domande e arrivi con delle soluzioni già pronte, è molto meglio. Se lui per esempio ha già pieno per esempio il prossimo mese, il mese successivo, quest'estate, vuol dire che lui sta lasciando sul piatto troppi soldi, cioè se ti prenotano con così tanto tempo in anticipo, vuol dire che stai chiedendo troppo poco. Io, se vedi i miei calendari, io sono sempre pieno alla giornata. Cioè il mio obiettivo è riempire da qui i prossimi 3, 4, 5 giorni la settimana, non il mese successivo, non quest'estate, perché tu devi fargli il discorso della domanda e dell'offerta. Ovviamente questa registrazione te la mando, riascoltala. Se, tra virgolette, manca un mese al check-in, di una data, ipotizziamo il primo giorno del prossimo mese, quando manca un mese al check-in, ovviamente c'è della domanda, c'è dell'offerta. Quindi ci sono tanti appartamenti disponibili in quella zona, perché ovviamente manca un mese al check-in. E dall'altra parte la domanda non supera l'offerta, perché sennò vuol dire che gli appartamenti sarebbero completamente pieni, non ci sarebbe nulla. Quindi la domanda è molto bassa. Più ci avviciniamo al check-in, più la domanda in questo caso aumenta. La domanda di persone che vogliono prenotare quella data aumenta. Però dall'altra parte l'offerta rimane sempre quella. Gli appartamenti sono quelli sul mercato. E arriviamo ad un punto dove, quando manca qualche giorno al check-in, la domanda potrebbe aver o superato l'offerta o ad essere molto molto vicino. Ti faccio un esempio più pratico. Se un mese prima io cerco appartamenti a Milano o in qualsiasi zona tu sia e trovo 200 appartamenti disponibili, e quando mancano tre giorni, cerco e ne trovo 10 appartamenti disponibili, puoi capire che il prezzo che possono fare quelle 10 persone non è lo stesso che potevano fare quando ce ne sono 200. Perché ovviamente sei in competizione con altri 190 in questo caso appartamenti. Quindi molto chiaramente fargli questo discorso e dirgli che più ci avviciniamo al check-in, più siamo anche audaci, in questo caso, nelle regole di prezzo, più ci spingiamo, più abbiamo la possibilità di aspettare ad abbassare il prezzo, aspettare a riempire l'appartamento e guadagnare sempre quei 20, 30, 50, 100 euro in pianotte, dipende ovviamente dall'appartamento ora, fargli una previsione a livello di cifre, di lì che magari gestendo, cioè dovresti anche fargli una domanda, tipo tu preferresti essere pieno al 100% a 50 euro a notte o essere pieno anche al 80% ma a 100 euro a notte? Ovviamente è molto meglio essere pieni all'80% ma a 100 euro a notte, perché sto guadagnando di più, se ci pensi, lavorando di meno, quindi fargli questo ragionamento qua, più che dirgli ti aumento il tasso di occupazione, lui è già pieno, non interessa, però se dall'altra parte con una gestione di prezzo molto minuziosa, tu per esempio spiegargli che gestisci i prezzi in maniera al minuto anche, alla giornata, all'ora, tieni costantemente sott'occhio, poi tu andrai a automatizzare questa cosa ma lui non deve interessare, tu sei un consulente, è come quando vai dal dentista, dal dentista vai ma non ti interessa se lui risolve il problema in tre minuti o in un'ora, tu paghi per risolvere un problema, per togliere magari la carri o stare meglio, quindi è lo stesso ragionamento, tu non entrare nel dettaglio, non dirgli che tu poi automatizzi con la regola di prezzo, no, tu ti concentri sul risultato, cioè dirgli, guarda, tu sei sempre pieno, vuol dire che stai lasciando, nella mia esperienza, stai lasciando soldi sul tavolo, possiamo lavorare per farsi di aumentare i tuoi prezzi, fargli questo ragionamento della domanda e dell'offerta, perché è questo, cioè si parla di libero mercato, cioè leggi macroeconomiche e spiegargli che potreste ottenere molto di più da quell'appartamento lì o da quei tre appartamenti lì. Questo per quanto riguarda la gestione dei prezzi. Poi c'è tutto il discorso della gestione offline, lì la gestione offline è più una cosa di risparmio di tempo, cioè una persona che ti dà in gestione offline l'appartamento, tu non devi portargli chissà che vantaggi, un aumento di performance. Mi ha detto specificatamente che proprio lui non vuole rotture di coglioni, nel senso che... Esatto, bravo. Cioè nel senso, ci sono persone che non vogliono rotture di coglioni, quindi pagano quel che devono pagare solo per non avere rotture di coglioni. E tu invece, ce l'avrai tu in questo caso un po', ma se hai capito un attimo come automatizzare, come creare delle procedure, come creare messaggi preimpostati, tutte cose che, per esempio a lui, torno sempre lì, non devi dirgli. Tu gli dici, io ti tolgo le rotture di coglioni. Poi se lui ti chiede come me le togli esattamente puoi entrare più nel dettaglio, ma non serve entrare nel dettaglio e spiegargli che con Airbnb tu automatizzi i messaggi, perché lui non interessa. L'importante è che i messaggi arrivano e l'importante è che lui guadagni e arrivino gli ospiti e siano contenti. E lui non abbia rotture di coglioni. Quindi siamo... Ci sono due... Due, tra virgolette... Due lati, no? Due macro aree su cui concentrarci. Uno è focalizzarci più su... Ti faccio guadagnare di più il tuo appartamento mantenendo il tasso di occupazione. Tu potresti paradossalmente dirgli io ti mantengo il tasso di occupazione, non te lo aumento. Anzi, sai cosa ti dico, caro proprietario? Potrei fartelo diminuire, ma se te lo facessi diminuire chiediamo il doppia notte saresti più contento? Boh, ti dice sì, guadagno di più e lavoro di meno. Perché no? E comunque ho più giorni da affittare potenzialmente. E dall'altra parte lì devi anche picciare, fare leva sul fatto io ti tolgo tutte le rotture di coglioni. Quindi è una cosa che ti posso garantire che tu non mi sentirai mai a meno che non ci sia un problema di vita e di morte. Questa è una cosa che funziona bene per chi vuole togliersi le rotture di coglioni. Prometterli che lui non dovrà pensare a niente. Tutto non occuperai. Grazie. Grazie.